Uno studio di registrazione musicale in via del Boschetto a Roma trasformato in una base per lo spaccio. A scoprirlo la polizia durante una serie di controlli in zona. Gli agenti hanno setacciato ogni angolo del locale fino a trovare 200 grammi di hashish, altrettanti di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Tutto era nascosto all'interno di una valigetta sotto la console. Alcune dosi erano state occultate nelle custodie degli strumenti musicali. Per il titolare della sala di registrazione, un trentenne romano, sono scattate le manette.